La rosa dei collaboratori di giustizia ha un nuovo nome, è quello di Salvatore Bonomolo, esponente della famiglia di Porta Nuova di Palermo, arrestato in Venezuela nel 2012. Sembra che l'uomo stia collaborando da alcune settimane con i PM di Palermo che hanno già disposto la protezione per i familiari, trasferiti in una località riservata. Bonomolo avrebbe reso dichiarazioni sull'omicidio del penalista Enzo Fragalà, ucciso a bastonata a febbraio di sette anni fa. Il neopentito avrebbe appreso particolari del delitto mentre era detenuto e confermerebbe la ricostruzione dell'assassinio resa dal collaboratore di giustizia Francesco Chiarello.